Con il rilascio di Windows 11 22 H2 Moment 4, Microsoft ha reso disponibile qualche giorno fa anche Copilot. Che cos'è Copilot? Copilot è un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che, integrato all'interno del sistema operativo, ci consente di fare alcune chicche davvero interessanti, ci consente di aiutarci nella creazione di contenuti, nella generazione di immagini generate al computer, ma anche risolvere altri problemi, fare domande, conversare con questa intelligenza artificiale per chiedere cose. È una funzionalità davvero interessante che purtroppo però non è stata resa disponibile all'interno del territorio europeo. Questo perché? Perché l'Unione Europea ha delle normativi estringenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, tutto quello che transita, al meglio, che esce dai nostri computer e passa per server esterni e quindi per questo motivo la Microsoft ha deciso, in attesa di adeguarsi alle normative europee, di evitare di attivare Copilot all'interno dei sistemi operativi presenti sul territorio europeo. E per questo motivo non possiamo utilizzarlo su Windows 11 in Italia. Questo però non è un problema perché c'è un piccolo workaround che possiamo utilizzare che ci consente di abilitarlo e di utilizzarlo ovvero anche in Italia. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a copiare questa stringa di codice e andarla a eseguire. Quindi ci copiamo la nostra stringa, tasto Windows R, incolliamo, ed ecco Copilot. Qui possiamo avere accesso a Copilot e chiedere quello che vogliamo e fare tutto quello che ci interessa, quindi dalla creazione di contenuti alla realizzazione di domande. Nel caso in cui volessimo rendere più agevole l'utilizzo di Copilot sul nostro computer possiamo creare una semplice scorciatoia, quindi nuovo, facciamo un collegamento, ci andiamo a incollare la stringa di prima, ci mettiamo il nome Copilot, ed eccolo qua. Adesso cliccando sul Copilot, sull'icona che abbiamo creato, possiamo lanciare il Copilot in maniera più semplice e agevole, quindi senza dover stare a fare copia e incolla ed eseguirlo all'interno dell'apposita finestra. Quindi ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Copilot, se vi sembra una cosa interessante, se vi sembra una cosa utile. Io in questi giorni lo sto provando per... gli sto facendo generare immagini per quanto riguarda i logo di Marcosbox e mi sto divertendo a vedere fin dove si spinge l'intelligenza artificiale. Questo ad esempio è uno dei loghi che ha creato per Marcosbox su indicazione mia e il risultato è davvero anche ben fatto e piacevole. Voi che cosa ne pensate? Siete a favore di questa intelligenza artificiale all'interno del sistema operativo o per voi è il demonio e deve essere allontanato una simile cosa all'interno del computer? Fatemi sapere lasciando un commento. Ciao ciao!